... Prima abbiamo visto Conegliano, poco fa, con un dragone su questa maniera. Voi dovete sapere che poi a Conegliano, nella seconda domenica di Dugno a Conegliano, c'è la maledizzazione anche della dama vivente, ricordatelo, questo piccolo sport per Conegliano. Mentre invece è su Conegliano, volevo dire che c'è un dragone. Sempre parlato di animali, Albasone si presenta con i lupi fetas, quindi con lo stemma del lupo. I lupi fetas sono uno degli enti, una delle punte di dimante del gruppo artistico grande, che si occupa nell'organizzazione della famosa manifestazione intitolata Medioevo a Valvasone. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.